Colle San Vito si è svegliata con il rombo dei motori. Quasi 400 enduristi provenienti dall'Italia centrale e meridionale si sono dati appuntamento per percorrere 100 chilometri di strade bianche e sentieri di montagna nei territori di Lucoli e torni in parte. Ma oltre alla splendida natura sono stati apprezzati anche i piatti della tradizione montana. Intanto piccoli enduristi crescono. Sono donato, vengo da Baiocco, San Vincenzo, Valle Rovedo dove il posto è bellissimo. Qui è altrettanto bello e il pranzo è ottimo, il mangiare è veramente squisito. La moto cavalcata è bellissima, pieno di fango come si può vedere. È una bellissima giornata da passare qui a Torri in parte. Questa è la sesta edizione della Motoru Spata, ASD Enduristi Social Club, Lucoli e Torri in parte. Allora l'anno scorso abbiamo fatto 332 iscritti, quest'anno abbiamo fatto 389 iscritti. Queste persone provengono da tutta Italia, dal nord fino a Lecce, Perugia, dalla provincia da Roma, dal Lazio tantissimi, Norcia, pure i paesi colpiti dal terremoto. Il tragitto attraverso i territori di Lucoli è di Torri in parte e si estende per circa 100 km tra punti hard e punti soft. I punti di forza sono tutti partecipanti, sono loro i veri attori della situazione. E poi tutto il ristoro, tutti quelli che organizzano il ristoro, quelli che ci danno la mano ai bivi, tutti, tutti noi. Il territorio che si attraversa è molto vario perché passa dalla roccia al fango alle strade bianche, ci sono di tutti i colori, di tutti bivi di fondo.